Ciao a tutti ragazzi, sono SuriOfficial, cioè in realtà sono Sairosur, il canale è SuriOfficial, ma farò stesso. Volevo iniziare questo terzo video log all'esterna, perché nel mio studio c'era veramente troppo caldo, ci abbiamo provato, ma ho rischiato di cuocere con un po' l'arrosto. Senza ricondizionatevi, senza il filatore, vi assicuro che è durissimo in stare nel mio studio. Comunque, volevo iniziare questo video log, questa terza puntata del mio video log, dicendovi grazie, perché sono rimasto colpito veramente, avendovi chiesto nel secondo video log di commentare i miei lavori e tutto ciò che stavo facendo, postando su questo canale, e devo dire che sono rimasto colpito di avermi ricevuti il numero di zero. Però comunque non è un problema, nel senso che ringrazio coloro che in privato mi hanno contattato e mi hanno alcuni fatto dei commenti positivi e altri negativi. Questo video log che sto facendo all'esterno in questo parco riguarda un nuovo progetto di StoryOfficial che sarà un video musicale della mia nuova canzone che uscirà a breve. E come mai ve lo sto dicendo adesso? Ve lo sto dicendo perché ho bisogno di gente con voglia di fare, decine di persone, che si prestino alle riprese di questo video, che durerà un paio di giorni, quindi una cosa neanche tanto impegnativa, come quanta roba stiamo facendo. Quindi cosa succede? Che avrò bisogno di una ragazza che sia la protagonista di questo video, le qualità non sono estremamente importanti, ma bella figlia. E una decina di ragazzi e ragazze che abbiano voglia di fare questo video, vi lascerò il link in descrizione per potermi contattare e noi vi ricontatteremo più presto. Detto questo, io ragazzi vi ringrazio per le iscrizioni, mi piace sulla mia pagina, sono contento perché comunque stiamo crescendo, stiamo andando bene, ne sono veramente contento e è di tutto merito vostro. Quindi mi raccomando, per rimanere aggiornati sulla vita di SuriOfficial, iscrivetevi al canale YouTube, Facebook, SoundCloud, se volete seguirmi anche su Instagram. E grazie davvero tanto, trovate tutti i link in descrizione, Come sempre, ciao a tutti ragazzi, alla prossima e restate sintonizzati. Ciao!